Siamo in via del centenario di Battipaglia dove si sta provvedendo a sostituire le lambade e mettere quelle a LED che fanno parte del nuovo impianto di illuminazione che porterà un notevole risparmio per le casse del LED. Qui il problema che ci viene sollevato da diversi cittadini è un altro. E' questa vegetazione che impedisce che la luce venca veramente sull'asfalto e potrebbe creare dei problemi agli automobilisti.